Il fatto che io sia arrivato da poco fa sì che io non ho niente alle spalle, quindi per me questa partita vale tre punti, per cui l'ho preparato esattamente come le altre, non pensando a quello che ci sarà dopo domani ma a quello che c'è domani. E quindi nel migliore dei modi, i ragazzi sono andati bene così come dal primo giorno, per cui sono assolutamente fiducioso. Il cambiamento del misto è stato comunque sia, come spesso succede, qualcosina da anche in termini emotivi a livello di gruppo. I ragazzi stanno andando bene e mi piace come si allenano, quello che ricepiscono quando le cose gli vengono dette. Io ho portato il mio modo di essere, il mio modo di lavorare, quindi alla base della mia carriera, prima e dopo, c'è sempre stata la serenità e la voglia di imparare, la voglia di migliorarsi. I ragazzi credo che si applicano e fanno quello che gli dico, per cui sono assolutamente contento. Il percorso di questa squadra ha detto che la squadra può fare tutti e due moduli, ma potrebbe fare anche un altro secondo me e non è detto che non lo vedremo prima o poi. Mi auguro di sì perché vuol dire che siamo andati dove dobbiamo andare. Ho dei giocatori bravi che possono fare più cose. Una squadra probabilmente costruita per giocare con i tre dietro, anche a livello numerico, infatti la rosa a livello difensivo è molto ampia. Quindi è una soluzione che non mi è dispiaciuta a Pistoia, ma anche nel mio passato qui, lo avete visto, a me quando c'è da mettere i tre, i cinque, i sette, l'importante è portare a casa la pagnotta, come si dice. Per cui problemi zero, l'importante è che si vinca. Dopo è chiaro, è tutto migliorabile e cerchiamo di farlo in tempo breve, ma l'importante è ovviamente il risultato. Questo è un discorso che faccio sempre con i ragazzi. A me il concetto di andare in campo e divertirsi non mi è piaciuto. Probabilmente Eugenio ha detto divertirsi perché lo ha inteso in questo modo. Il divertimento insomma non esiste, insomma qui sono i professionisti che fanno questo mestiere.